Ciao a tutte, siamo il negozio Le Chicche, abbigliamento donna curvi. Per chi non ci conosce siamo in via Cavour 36 a Senigallia e abbiamo un sito online che si chiama shop.lechicchesenigallia.it dove potete trovare tutti i nostri articoli, tutte le misure e tutti i nostri prezzi. Siccome vendiamo anche online e spediamo potete anche fare ordini su Whatsapp. Il numero è 347 10 59 082. Ok, per quanto riguarda le spedizioni abbiamo un costo di 7 euro per spedizioni inferiori ai 100 euro sopra i 100 euro la spedizione è gratuita. Non abbiamo più il contrassegno, problemi col corriere quindi non abbiamo più il contrassegno almeno per il momento. E niente, vestiamo fino alla taglia 60 e oltre. Abbiamo un abbigliamento giovane, un po' sprintoso per chi non ci conosce. E niente, vi presento un po' di cose. Intanto salutiamo Valentina che è con noi. Ciao a tutte. E anche Adriana che ci indossa qualche capo di quello che abbiamo rimasto in saldo. Allora, questo è un completo casacchina in piedi pull in tessuto tipo un jersey. Sotto ha un pizzo e sotto ancora una balza di tessuto in cotone. Un tessuto diverso, molto carina con gli spacchetti laterali aperto così a V. e sotto abbiamo messo un pantalone a gamba larga. Allora, la casacca la trovate sul sito online come casacca fondo pizzo. Da 104 euro è scontata a metà prezzo quindi viene 52. Taglia unica, seno fino a 130-140, fianchi 140. Il pantalone è quello con la fascia in vita, leggermente felpatino, che viene a 39 euro. Abbiamo rimasto una taglia non molto grande di questo pantalone qui. Quindi posso infilarci sulla... Sì, ci infiliamo. Ah, sì, è vero, questo ci infiliamo un po' po'. Il piumino, l'ultimo piumino arrivato, oltre a quelli che avevamo prima, che poi comunque il modello ce l'abbiamo e lo faremo vedere. Questo è un piumino con il collo a cratere, che quando è chiuso rimane col collo alto così, così roveccia. Così aperto e c'è i tasconi, i tasconi con il soffietto, l'elastico per essere tirato sotto ed è a questo motivo che spezza un po' la figura, lungo, a cappottino, alla cerniera. E questo viene? Questo è, allora, veniva a 206, ora viene a 164, è disponibile nella taglia 3, nella taglia 3, nel colore nero, cammello e bianco. E un brand, così vi facciamo vedere? Sì, uno 130, fianchi 140. Si salutano da fuori? Da fuori, ma non so chi è. Allora, i colori sono questi, oltre al nero che sta inossando Adriana. Sì, mi correggo, il burro e il cammello sono a taglia 3, quindi sono seno 130, fianchi 140. Il piumino nero è una taglia 2, quindi una taglia in meno, seno 120, fianchi 130. Visto che ci siamo, indossiamo anche gli altri piumini, così facciamo vedere i modelli che abbiamo rimasto. Ciao Lisa. Ciao Lisa. Allora, questo è un altro modello, questo è spiancato dietro, ha questo motivo bellissimo. Bottoni ricoperti, chiude con, ecco, il bottone così, e il collo quando chiude, chiude così. Questo scontato viene 145, disponibile da taglia 3, anche in bianco, seno 130, fianchi 140. e poi c'è un altro modello, l'ultimo, così abbiamo fatto vedere tutti i piumini che abbiamo rimasto. Abbiamo fatto una scossa? Abbiamo fatto una scossa? Ecco. Allora, questo è lo stesso, c'è un collone alto che può essere rovesciato. Questo è davanti, è trapuntato e le maniche, sì, ha le maniche un po' aperte, molto fine, bello così, un po' elegantino. Dietro c'è questo motivo bello che può essere anche, siccome c'è una pulisse sotto, questo può essere tirato e diventa un po' a palloncino, fa questo effetto qui. Molto carino, giro, sì. Allora, questo scontato viene 151, però le misure al momento non sono disponibili perché l'abbiamo appena ripreso, quindi... Sì, questo calzerà una, più o meno una 48-50, diciamo. È un po' abbontante, una 50, anche forse una 50. Ecco, qui sotto si può tirare, volendo, oppure lasciare lì, però... Ok. E questi sono i piumini che abbiamo rimasto disponibili, abbiamo terminati. E mentre Adriana si va a cambiare, io vi presento queste cose che ci sono qua. Allora, abbiamo il maglioncino, molto carino, con gli spacchetti, è tornato un po' diverso da quello che avevamo, però ha lo spacchetto sui fianchi, lungo, la scatoletta, e c'è disponibile nero, arancio e blu. Tre colori abbiamo rimasto. Sì, se ne fianchi 150, lunghezza 73, viene 49 euro. Allora, l'abbiamo messo sopra un pantalone scozzese, che è uno scozzese con elastico. È uno scozzese, si vede? Sì, sì. Verde e blu, con risvoltino in fondo. Abbiamo rimasto anche di questo solo una taglia. Sì, la 2XL, che veste di vita da 96 a 135, fianchi fino a 150. E viene scontato 32 euro. È molto carino. Poi qua invece abbiamo un cappotto meraviglioso. Allora, ho detto una camicia. La camicia, sì, la camicia bianca. Non so se c'è il modello da questo. Non c'è, sì. Camicia lunga dietro. Più corta davanti. È una taglia over. Anche questa la trovate sul sito. Sì, come camicia svasata over. Scontata viene 35, taglia unica. Veste di seno 140, fianchi 150. Lunghezza davanti 74, dietro 87. Disponibile in bianco e nero. 100% cotone. Tutte le camicia. La maglia che indosso io. È una maglia sempre a scatoletta. Grande. Ha le taschine. Uno scollo leggermente a V. Disponibile solo in questo colore. Ma è un colore veramente... È meraviglioso questo colore. Non è un bluet. No. Non so, si vede bene, cioè, rende lo stesso colore. Sì, dallo schermo qui sì, dopo bisogna vedere... Perché il colore è bellissimo questo colore. Io l'ho messo sopra un pantalone di velluto, di quelli a gamba larga, a palloncino, con l'elastico in vita, con il risvolto e una maglietta in viscosa lunga sotto. In vetrina l'avevamo messa anche col pizzo sotto, quindi è carino anche se qualcuno ha preso la noccanotta di pizzo, sta molto carino sopra. Ti passo questa? Ti passo questa? Eh? Sì, la possiamo anche far vedere, per favore. Allora, questa scontata viene 47 euro, veste di senefianchi 150, lunghezza 65. Poi, passiamo invece al cappotto. Questo l'abbiamo trovato questa settimana, non ce l'avevamo, ma secondo me è bellissimo. E' uno scozzese con dei colori molto delicati, abbinati secondo me in una maniera meravigliosa. E ha le taschine in bouclé. Adesso io, a me stava grande, però lo indosso per far vedere un attimo anche da vicino. Perché è veramente bello, bello, bello. Eccolo qua. Allora, ha le taschine in bouclé. E' un cappottone, ripeto, a me è grande, però, un cappottone, un tessuto bellissimo, lo scacco molto bello. Fra l'altro, dentro, è foderato con un trapuntino, quindi è proprio meraviglioso, bellissimo. Allora, il cappotto over, scontato, viene 97 euro, disponibile nella taglia 2XL e over. Taglia 2XL, seno 150, fianchi 160, taglia over, seno 160, fianchi 170. Qui sotto noi abbiamo messo lo stesso pantalone che indosso io, però color fango, perché richiama proprio lo stesso colore del cappotto. E una maglina, una maglia in felpa garzata, che richiama il colore dello scacco, perché non so se si vede lo scacco azzurro. Sì, 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 si vede l'abbinamento. Allora, il pantalone lo trovate sul sito come pantalone con elastico velluto, ora è scontato a 31 euro. E' una taglia unica che veste dalla 48 alla 60 circa. Sì. E' disponibile in diversi colori. Il fango è quello che vedete sul manichino. Poi è disponibile il blu. No, il blu no, è terminato. È terminato? Sì. No, ce n'è uno in vetrina. L'unico... C'è il grigio piombo, il ruggine, Il marrone è scuro. Sì. C'è anche il nero, se non sbaglio. La luce mi sta cercando. No. Il nero, sì. E ce l'ho addosso, c'è. Sì, è vero. E comunque se andate sul sito, quando cliccate nel colore, quando c'è della taglia e il colore, vi compare la foto specifica del colore scelto. In tutti gli articoli. Ok. Vediamo Adriana. Sì, esatto, Lisa. Colore oceano. Il colore della maglia. Bello, oceano. Colore oceano. Buonasera a tutte. Eccoci qua. Allora, questa, sullo stesso pantalone, ha indossato una maglia che è in misto lana, questa. Sembra che ha un 30% di lana e di mohair. Questa ha un 30 lana e 30 mohair. Ecco. Quindi ha una buona composizione. Ha la rifinitura fucsia sul collo, sulle maniche e in fondo. Le taschine. È rimasta disponibile in quel colore. E ecco. Fucsia. Col bordo nero. E gli altri colori sono finiti tutti. C'è uno lì, polvere col bordo grigio? No, non c'è più. È lì? Non è quello? No, quello è l'altro. Ah, non l'ho visto. No, no, non sa che è rimasto questi colori qua. Sì, è vero. Sì, sì, anche sul sito. Nero fucsia. E niente, c'è il nero e il fucsia con la rivia nera. Sì, è scontato a 47 euro. È disponibile in più taglie. E ha un 60% di lana. Ok. È smacchinata, non è tagliata. Bella. Ok. Morbile, morbile. Allora, io sposto questi e vi faccio vedere altre cose. Fucsia. Abbiamo il maglioncino sempre a scatoletta sempre in tessuto Dolby che è un tessuto di viscosa molto caldo morbidissimo sotto abbiamo messo una maglia di quelle con le maniche con la balza in pizzo un po' più corta perché l'abbiamo fatta fare anche un pochino più corta e il pantalone gauccio in bengalina invernale con la gamba larga. Allora, la scatoletta sopra mi sa che non c'è sul sito quella. perché è l'unica rimasta della serie di questi qui che erano due modelli e l'unica rimasta comunque ha lo stesso prezzo 47 euro e la maglia con il pizzo viene scontata a 41 euro e è una taglia unica che veste di seno fino a 140 fianchi fino a 144 può essere indossata anche la taglia in periodo di me. Scusa, ti interrompo un attimo finché te presenti queste due cose io mi metto il cardigan che volevo far vedere. La indossa anche mia madre quindi è una taglia unica fino a 140 ma può essere indossata da tagli più piccoli come anche tutte le scatolette. Poi il pantalone è la bengalina invernale lo trovate sul sito come pantalone tessuto bengalina invernale scontato viene 43 euro disponibile in più taglie nel nero che vedete lì nel blu che è un bel tono di blu e in verde militare. Di fianco trovate il cardigan in maglia 34 euro disponibile in più taglie nel color fucsia che vedete e nella 2XL disponibile anche il color naturale e niente poi a seconda della vostra misura possiamo consigliare la taglia più adatta. Sotto c'è il pantalone a quadretti che è un pantalone a gamba larga scontato 23 euro scontato 23 euro taglia unica veste di vita da 90 a 140 fianchi fino a 160 ok allora adesso Adriana ha indossato un completo un completo leopardato con pantalone largo alla caviglia e il tulle in fondo la maglia c'è in questo colore ed è disponibile anche lì ecco qui sera non è la mia serata è verde allora la maglia con tulle fantasia scontata viene 58 il pantalone 48 e questo posso? questo ricambio questo invece è un cardigan particolare lungo a me è grande come le altre cose però comunque la linea si vede molto bello ha questo motivo qui con due bottoncini e due strass alza un po' la voce e frange solo in fondo scontato solo davanti allora questo venia a 98 scontato 68 ha 30% di moere 30% di lana veste di seno 150 fianchi 160 lungo 107 compreso le frange ok adesso volevo far vedere indossato anche questo questo fucsia che è lì così almeno diamo un po' un'idea anche delle cose che sono appese visto che oggi sui manichini non le abbiamo messe si giro adesso facciamo rivedere il cappottino allora questo è il cardigan sempre un po' troppo grande ci sentite tutte perché una signora ha scritto che non sente non so se è un problema di uno io la voce è un po' basta ce l'ho stasera adesso mi ha scioccato anche la tenda quindi no se è un po' magari un problema in connessione vediamo ok questo è l'altro cardigan con le tasche secondo me è molto carino nella sua semplicità è molto carino anche questo morbidissimo proprio morbido morbido questo non è in smacchinato ma è un tagliato diverso dall'altro che è uno smacchinato ok allora cos'è che devo far vedere il cappotto? sì il cappotto quello di lana quello scacchi sì Alisa dice che si sente bene anche ok quindi forse è un problema di connessione della signora sì allora il cappottino eccolo qua ha due bottoni in alto e poi si chiude con degli automatici invisibili quindi si chiude tutto fino in fondo con gli automatici ha le taschine in bucle è uno scacco molto bello con dei colori un abbinamento di colori molto fine dentro un'altra cosa molto bella è che dentro è foderato con una fodera però leggermente imbottita trapuntata quindi è un cappottino che si porta anche adesso con il freddo scontato 97 euro come abbiamo detto la 2XL seno 150 fianchi 160 la over seno 160 fianchi 170 avete pantaloni a uvetto pantaloni a uvetto uno è questo sì la bengalina invernale in nero blu verde militare anche questo non è questo c'ha la gamba palloncino uno lo chiama palloncino però è come se fosse un uvetto allora un attimo che cambiamo stendiamo un completo di Adriana ecco qua questo è un completo un pochettino un po' più elegantino c'ha la camicia stropicciata e il pantalone a gamba larga con il bordo lo stesso bordo lo troviamo nella manica della camicia lo stesso bordo che c'è in fondo il pantalone e noi sopra abbiamo messo un gilet senza maniche nero lungo con gli spacchi leggermente svasato alle tasche ecco qua allora la camicia trovate sul sito come camicia stropicciata fantasia scontata viene 49 disponibile nel colore che vedete anche con il fondo grigio cliccando sulla taglia e colore vi compare la tonalità il completo è 100% viscosa il pantalone sotto scontato viene 49 anche il pantalone disponibile in più taglie e anche nell'altro colore il gilet è un gilet lungo dritto scontato 41 euro veste di seno fino a 128 fianchi fino a 148 è nero ok ho stato fatto sì allora spostiamo queste facciamo vedere altro allora Giolla no di lana proprio Giolla chiedeva il cappotto di lana lana è la gattina ma è terminato sì e allora Roberta ti ringraziamo Lorella chiede maglie in viscosa ecco adesso stanno entrando qualcuna quelle che avete visto in fucsia sono in viscosa anche quelle che è andassata Adriana a fantasia tigrata con il tulle in fondo allora questa queste sono due maglie sempre in viscosa in viscosa calda abbiamo messo questa è una scatoletta corta e sotto abbiamo messo la canotta con il fondo in plissé per completare un po' e sotto c'è il pantalone quello che sto indossando io mentre qua è sempre una maglia in viscosa ma più lunga abbiamo messo il plissé che è un cioè è sempre una canotta con il fondo in plissé però è lunga lunga fino al ginocchio quindi questo può diventare un mini abito o un abitino che arriva sul ginocchio il ginocchio dipende dall'altezza allora la maglia con il motivo quindi la maglia cammello di sinistra viene 45 euro veste di seno e fianchi 160 la canotta con il plissé quindi la versione corta viene un secondo la trovo eccola qua questa è scontata? no vero? no le continuative 44 la canotta con il fondo plissé taglia unica seno e fianchi fino a 130 il pantalone quello che indossa Antonella scontato 31 euro e in velluto disponibile in più colori poi la maglia sulla destra la trovate sul sito come maglia scollo a barchetta scontata 48 euro seno e anche fianchi fino a 130 disponibile anche in nero e alla fine la sottoveste con il fondo in plissé la trovate come mini abito sottoveste plissé 49 euro seno fino a 135 fianchi fino a 140 ok io intanto ho indossato un'altra maglia in viscosa sopra sempre per far vedere c'è una base nera quindi indosso qualche maglia per far vedere un po' questa è una maglia smanicata con gli spacchi alti un po' più lunga dietro un po' più corta davanti con il collo ad anello molto carina è rimasta disponibile però solo in bianco e in nero che è questa quella no? ah marrone anche vero? ma può mettere anche l'altra? questa marrone si la metto qui e così puoi dare anche il coso del pantalone allora la maglia viene 29 euro veste di sene fianchi fino a 160 disponibile nei colori che avete visto e è in viscosa perché ho chiesto maglie in viscosa poi la camicia sotto è quella che abbiamo presentato prima e il pantalone è il pantalone a gamba stretta di cotone invernale scontato 47 euro disponibile anche in nero in tagli diversi anche in burro allora che tagli niente all'ora ho fianchi 150 allora se vuoi Lorella ci puoi contattare su whatsapp al 347 10 59 08 2 e ci indichi le tue misure e ti mandiamo tutte le maglie in viscosa che possono andarti bene ti mandiamo le foto e chiunque voglia chiedere le cose allora la maglia in viscosa grande scusa ma ho sentito che leggevi il messaggio vai si si vai è questa questa è una maglia in viscosa grande noi abbiamo messo sotto la canota in pizzo però poi dopo lui no questa la trovate sul sito come maglia spacchi alti 44 euro e ha un'ampiezza di 240 ma puoi indossarla chiunque indossa anche mamma nera mamma indossa tu è importante che sia grande a me mi piacciono grandi allora questo è un abitino invece in viscosa adesso chiaramente in questo momento ci vuole sopra un cardigan qualcosa infatti noi poi l'abbiamo visto si intanto te vale lo puoi presentare io lo faccio vedere in un altro colore si allora l'abito fantasia fiori scontato 48 euro taglia unica vesti di seno fino a 140 fianchi fino a 180 noi l'abbiamo messo qua per esempio l'abbiamo messo sotto un cardigan un cardigan perché adesso in questo momento magari è un pochettino più più fresco e quindi ci vuole qualcosa i due colori disponibili sono uno è quello lì e uno è questo si ha la manica particolare larga è bello portato anche tutto aperto si è largo è anche sbottonato come spolverino con sotto lo stropicciato ok la maglia dietro sul sito non c'è quell'arancio vabbè la presentiamo è perché non mi corre il prezzo se lo sai tu 39 scontata ok c'è questo colore e nero poi la camicia che vedete nera sotto è la camicia stropicciata in raso scontata 49 euro disponibile a taglia 2 seno 140 fianchi 150 è in viscosa ed è bella indossata sia sotto le maglie che sopra così in questo modo poi il pantalone sotto è un pantalone gamba stretta in punto Milano giusto? 39 euro con il classico in vita 39 da scontare scontato viene 31 ok io non c'ho più niente da indossare ok io adesso faccio vedere qualche cosina e poi dopo allora dai resto così per i saluti allora io volevo far vedere allora un secondo Luciana chiede la canotta complissi finale il prezzo allora la canotta complissi allora quella corta che va sotto le maglie 44 quella lunga che fa anche da mini abito 49 il sito è shop.lechicchesenigalia.it lo trovate fissato nei commenti e anche nella nostra pagina facebook potete accedere allo shop o scriverci su whatsapp e vi mandiamo il link Lisa dice io ho vestito aperto a fiori ce l'ho e si porta benissimo oltre a cardigan sotto ci metto anche un lupetto a secondo del freddo si infatti è bello anche portato anche aperto come scimisie ok faccio vedere qualche completo che abbiamo qui composto uno è questo pantalone punto milano gamba stretta elastico in vita con la maglietta scatoletta che abbiamo presentato anche prima è leggermente diversa ma è sempre sul genere con sotto una casacca quella la trovate su sito come casacca in wall doppio poi abbiamo questo qui che è un un po' più sportivo maglioncino corto coprispalle con sotto abbiamo messo una maglietta di cotone e il pantalone è sempre quello che indosso io in velluto mille righe questo complettino così poi cosa mi vado a far vedere ah le felpe allora facciamo vedere le felpe le felpe una felpe e una maglia questa è una giacca di felpa e questo invece è un maglioncino che è simile a quello che ho indosso io ma non è uguale perché è la taschina quindi vale se li vuoi presentare intanto allora la felpa aperta la trovate sul sito come felpa aperta inserti ecopelle che si trovano sopra la tasca e anche lacci sul collo scontata 48 euro disponibile in più taglie la più piccola seno 140 la più grande seno 150 è un cotone ovviamente felpa di cotone disponibile solo in viola sulla destra invece trovate lo smanicato maglia smanicata colla d'anello e tasca 47 euro seno 140 fianchi 150 e sotto c'è una camicia di raso 29 euro ok voglio far vedere questo che è una il cardigan che abbiamo venduto tanto abbiamo rimasto questo colore e non c'è anche il cammello è cammello sì devo indossarci in giro collo però scaldacollo ecco qua questo è un altro articolo di quelli che avevamo in tanti colori adesso comunque abbiamo rimasto questo che è bellissimo è il cammello che però non so dove è eccolo qua questo è il cammello 39 euro poi per ultimo perché se sei intanto mi ricordo questi completi che avevamo in maglia li abbiamo rimasti solo in bluette verde che poi vi faccio vedere è naturale questo è verde e il colore naturale questi sono i colori rimasti al momento perlomeno sono questi 59 euro tutto il completo ok allora chiedono alla maglia arancia dolce vita che prezzo ha e i colori 39 euro nero e il colore che vedete lì sì allora io direi che abbiamo questa questa la voglio far vedere perché abbiamo deciso di metterla a metà prezzo è una maglia in ciniglia molto bella di matt con le paillette davanti allora questa veniva 109 109 quindi scontata 54 disponibile a taglie LXL seno 130 fianchi 160 secondo me se ne anche un po' di più bene io direi che abbiamo fatto vedere un po' di cose di quelle che abbiamo rimasto ci avevamo due completi da far vedere vogliamo far vedere tanto abbiamo fatto ci abbiamo rimasto quelli perché è un colore molto bello il colore magenta voglio far vedere questi sì quelli sono belli allora eh sì non ci ho pensato allora eccoli qua questa è la giacca con le tasche in taffta la faccio vedere vicino tasche in taffta riporto in taffta e collo anche in taffta sotto c'è una maglia in viscosa color magenta come quella che indosso io sotto lunga e larga questa è una felpina con il bordo a taglio vivo taffta qui nel motivo con i bottoni e collo in taffta a cratere è una scatoletta e sotto abbiamo il pantalone in felpa con le riprese qui un po' che va a finire un po' a chiudere gamba morbida e va a finire un po' a chiudere allora lo spolverino in taffta al momento sul sito non c'è perché questa è una taglia diversa da quella che era indicata comunque veniva a 99 euro da scontare nel 30 viene a 69 e il pantalone sotto è un pantalone punto milano pantalone gaucho punto milano scontato 32 euro dressa di vita fino a 120 fianchi fino a 130 disponibile anche in cammello e la felpina magenta non la trovate sul sito perché dobbiamo fare la foto il pantalone uvetto in felpa scontato 44 euro ok vogliamo salutare sì se ne fiamo il prezzo del cardigan beige quello che indossa 39 euro 39 lo trovate sul sito come giacca e maglia bene io vi ricordo il nostro sito shop punto lechicchesenigallia.it dove trovate i prezzi misure tutti i colori disponibili tutto quello che è disponibile in negozio il nostro numero di whatsapp che è il 347 10 59 082 per fare ordini per chiedere informazioni e tutto quello che volete vi chiedo come al solito di condividere la diretta per farci un po' di pubblicità grazie a tutte per i complimenti grazie grazie veramente ringraziamo anche Adriana che ha indossato un po' di cose per noi Valentina allora Lorella chiede la maglia quella magenta prezzo e misura quella lunga questa lunga questa viene 44 e c'è in più taglie quindi magari se ci contatti ti indichiamo una più adatta disponibile anche in nero e blu e blu l'abbiamo appena presa lunedì quindi che sarebbe quella che indossi anche tu sì che indosso io io indosso la taglia più piccola ok grazie Valentina grazie Adriana grazie a tutte voi a tutte ciao a tutte la prossima settimana probabilmente faremo la diretta il mercoledì credo mercoledì comunque faremo il post poi vedrete perché venerdì abbiamo un impegno arrivederci ciao a tutti ciao ciao